Ci troviamo davanti al centro di medicina di San Donà di Piave in provincia di Venezia. Qui opera un'equipe medica eccellente di PMA, Procreazione Medicalmente Assistita. Tantissime coppie ogni giorno si rivolgono a questo centro con una storia, un bagaglio differenti, ma con la necessità di essere supportate ed aiutate per il raggiungimento di un sogno comune. Conosceremo allora la struttura dall'interno per capire come la tecnologia abbia fatto passi da gigante negli ultimi decenni e lo faremo attraverso delle professionalità che operano in questo percorso. Sì, perché questo è un mondo non solo fatto di tecnologia all'avanguardia, ma anche e soprattutto fatto di persone. Siamo in compagnia della dottoressa Marta Santin, biologa nutrizionista che collabora con l'equipe del dottor Francesco Tomei. Dottoressa, lei è l'esempio fatto a medico, mi passi il termine, che l'unione in un percorso di PMA fa la forza, perché se da un lato abbiamo la tecnologia all'avanguardia dalla nostra, dall'altro c'è qualcosa che le coppie e le persone possono fare singolarmente a casa, ovvero prendersi cura di se stessi riguardo proprio all'alimentazione. Anzi, spieghiamolo bene, c'è una netta differenza tra alimentazione e nutrizione. Certo, allora questo è un concetto bellissimo e che mi piace sempre spiegare alla coppia che si accinge ad un percorso di procreazione medicalmente assistita e che viene da me in aiuto. Quello che ci tengo sempre a precisare con loro è che l'alimentazione non è importante solo in termini di aumento o perdita di peso in questo contesto. è importantissimo riuscire tramite l'alimentazione a nutrire il proprio corpo, le proprie cellule e per questo motivo la propria salute riproduttiva. Mentre il concetto di alimentazione equivale all'atto di mangiare in sé per sé e quindi all'introdurre delle calorie a mero scopo di sopravvivenza. l'aspetto invece nutrizionale è un po' più ampio e coinvolge l'aspetto qualitativo dell'alimentazione. Ecco, perché diciamolo, il suo ruolo gioca molto forte non soltanto come si può normalmente pensare a chi deve perdere peso, a chi si presenta con problemi di sovrappeso, ma anche a chi invece dovrebbe guadagnare qualche chilo in più, perché si sa sia l'essere in sovrappeso che in sottopeso in qualche modo porta a squilibrio. Ecco, in che modo questo incide anche sulla fertilità? In tantissimi modi. L'obesità e il sovrappeso sono una delle maggiori cause di ipofertilità acquisita, se non altro in questo millennio. La donna obesa sovrappeso ha dei cicli anovulatori, quindi ha una difficoltà nel riuscire ad avere il ciclo regolare ad ogni mese e non sono cicli qualitativamente validi. Allo stesso modo la qualità ovarica viene notevolmente compromessa. L'uomo obeso, l'uomo in sovrappeso, ha una ridotta motilità spermatica, un'alterata morfologia spermatica, nonché un ridotto numero di spermatozoi stesso che quindi impatta tantissimo sullo stato di fertilità. All'interno di un percorso di procreazione medicalmente assistita, se vogliamo essere un po' più specifici, ha un tasso di prelievo tante volte minore rispetto a quello delle coppie in normopeso. La donna molto spesso ha problemi per i natali, preeclampsia, diabete gestazionale, rischio di parti prematuri, oltre al rischio anche di aborti spontanei molto più frequenti. Giustamente non dobbiamo solo parlare di sovrappeso e obesità. Le donne in sottopeso hanno un rischio aumentato tanto quanto quelle obese di non poter incorrere in una gravidanza anche naturale e quindi di avere anche meno successo in questo tipo di percorsi. Se pensiamo che una donna al di sotto del 22% di grasso corporeo ha già un ridotto tasso di cicli ovulatori, è molto più a rischio di ipovitaminosi e quindi di avere una qualità ovarica un po' compromessa. Tante volte quindi sono donne che entrano in menorrea in seguito a stati di disturbi del comportamento alimentare che possono essere l'anoressia o la bulimia o stati di overtraining per esempio in cui la donna per spinta da una motivazione legata prettamente al suo aspetto estetico si concentra troppo sull'ambito sportivo e arriva tante volte proprio a perdere il ciclo. Ecco parliamo invece nello specifico degli vari step che ci sono in un percorso di PMA. Come si inserisce il ruolo del nutrizionista, del biologo nutrizionista nelle varie tappe della PMA? Quello che andiamo a fare è intanto lavorare fin dai tre mesi precedenti all'inizio del ciclo. Dico tre mesi perché 90 giorni è il numero di giorni con cui la cellula uovo completa il suo ciclo maturativo. Poi il tutto prosegue con il ciclo di stimolazione follicolare quindi con l'alimentazione andiamo a supportare la crescita del follicolo affinché sia qualitativamente valido ed eventualmente si possono anche andare a controllare eventuali stati di iperstimolazione ovarica andando a regolare e a riequilibrare l'insulina circolante. Poi passiamo al momento del pick up, una fase molto delicata in cui è necessario garantire un corretto funzionamento intestinale quindi evitare il più possibile stati di stipsi che potrebbero compromettere o comunque complicare il prelievo vocitario da parte dell'operatore stesso. Durante il transfer poi è necessario sia tramite l'alimentazione che con dei buoni consigli di stile di vita e di attività fisica garantire il corretto flusso di sangue uterino, garantire un buon tono energetico alla donna in questo caso e soprattutto cercare con degli alimenti specifici di modulare il sistema immunitario in modo positivo per evitare eventuali mancati attecchimenti embrionali perché il sistema immunitario è fortemente coinvolto in questo. Poi c'è la parte un po' più delicata, quella delle due settimane a seguire, il transfer in cui la donna tendenzialmente, la donna ovviamente stiamo parlando di lei ma anche l'uomo sicuramente affrontano una fase di forte emotività, di forte stress in cui i livelli di cortisolo sono molto alti e tante volte gli stati umorali anche ne risentono e quindi in questo caso se vogliamo l'alimentazione va a supporto di quello che è il tono dell'umore andando a coccolare un pochino la persona, evitando ovviamente gli eccessi. E poi se le cose come si spera vanno bene bisogna avere un occhio di riguardo anche per i nove mesi successivi. Assolutamente sì, infatti il proseguo, dico io, quindi l'assistenza durante la gravidanza quello è una delle parti più belle in cui si fa stare bene la donna e si punta a farle avere un decorso gravidico quanto più bello possibile. Dottoressa, una corretta alimentazione, lo diceva lei appunto prima parlando anche di endometriosi, incide anche in quelle che sono alcune patologie che mettono a dura prova un percorso anche di gravidanza spontanea. Ecco, in quale modo l'alimentazione può aiutare le persone affette da alcune patologie e quali sono le patologie stesse? Certo, beh, come patologie le principali a cui penso sono la sindrome dell'ovaio policistico e l'endometriosi sono due tra le cause principali di infertilità femminile e sono due patologie che possono essere altamente tenute sotto controllo dal punto di vista alimentare. L'ovaio policistico di per sé è un disordine di tipo endocrino che porta la donna a una di avere delle complicanze riproduttive proprio per l'assetto metabolico che si crea ed è proprio lì che vogliamo andare a lavorare con l'alimentazione. L'endometriosi invece è una patologia infiammatoria cronica legata all'utero in cui grazie all'alimentazione riusciamo a gestire la dolorabilità tipica della patologia stessa e riusciamo in qualche modo anche lì a lavorare su quello che è un assetto ormonale disequilibrato o molto a favore degli estrogeni. L'estrogeno dominanza è tipica di questa patologia e anche essa va, se vogliamo, tenuta sotto controllo anche dal punto di vista alimentare gestendo bene il carico glicemico dell'alimentazione stessa e andando a lavorare su quella che è la metabolizzazione e l'escrezione degli estrogeni in eccesso, quindi concentrandoci anche con dei consigli un po' più mirati sul fegato, andando a lavorare sull'intestino per fare in modo che effettivamente lavorino come dovrebbero. Anche nell'uomo il successo riproduttivo dipende dallo stile di vita che ha. Se ne sente parlare meno perché? Perché fino a qualche tempo fa era tutto a carico della donna, se vogliamo, quando invece ora si sa che il 35% delle cause di infertilità nella coppia è proprio dovuto a un fattore maschile. Dottoressa, l'è stata molto esaustiva. Complimenti anche per l'età giovanissima che ha, eppure ha una competenza, lo si vede ben concreta e ben affermata. Grazie per la sua disponibilità e per averci illuminato su moltissimi aspetti che molto sicuramente i telespettatori che ci guardano da casa, qualcuno magari lo sapeva, ma sono sicura che tantissimi ignoravano come me in primis alcuni di questi aspetti fondamentali. Grazie mille per essere stata con noi. Grazie a voi.